Ebbene sì signori, oggi ci troviamo in piscina e l'obiettivo di oggi è risolvere il cubo di Rubik sott'acqua e adesso il Cujo lo scomporrà mentre io lo filmo, il cubo è già scomposto come potete vedere quindi ora lo scompone anche lui così non imbrogliamo, fa anche lui delle mosse a caso e dopo vi dico già che uno sticker è praticamente quasi deteriorato dal tutto, adesso vi facciamo vedere qual è e se per caso a fine risoluzione non ci sarà, ecco qua, questo qua è lo sticker verde arancione giallo quindi se non troviamo questo sticker qua non l'ho imbrogliato ma semplicemente si è staccato e è rimasto in piscina cosa molto probabile che avverrà visto che la cola sotto lo sticker non tiene più, adesso il cubo quando il Cujo ha finito di scomporlo me lo darà in mano io te lo sto risolvendo non so se l'hai capito no dai dai tieni ecco adesso un attimo che lo scruto che lo scrota no che lo scruto allora e poi andrà in apnea devo controllare per bene tutto per non sbagliare allora vediamo ok ok facciamo così solo un attimo che do un'ultima controllata ok ecco qua lo sticker mi si è staccato ci vuol dire qua mi appoggio qua almeno lo perdiamo subito ok sono senza occhialini quindi è anche più difficile vedere i colori sott'acqua però ci proviamo lo stesso e c'hai qua il robot che vuole giocare ok allora 3 2 1 via 0 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 ecco qua signori ce l'ho fatta non ce la facevo più facciamo più il respiro però facciamo vedere subito la conferma il pezzo era verde arancione e giallo quindi non l'ho imbrogliato il pezzo è qua quindi il video per oggi è finito l'impresa è stata completata ringrazio il Cugio per avermi aiutato nel filmato nella scomposizione del cubo se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale per noi video e qui un saluto da Cecco e Cugio